Lee Priest contro la Pro League e non per la prima volta Come vi ho raccontato qualche giorno fa un atleta della 212 è stato squalificato per 12 mesi dalla Pro League per aver fatto un guest posing in un'altra federazione e quindi è stato squalificato per un anno Lee poi ha fatto questo video su Instagram dicendo la sua giustamente e lamentandosi di come funzionano i rapporti tra Pro League e atleti Ogni atleta quando diventa un professionista ha un contratto con la Pro League, un contratto indipendente ma la Pro League non paga gli atleti con il contratto mensilmente o annualmente anzi è l'atleta che deve pagare la Pro League per ricevere il tesserino da pro e per quindi gareggiare nelle gare pro Non è il contrario, quindi la Pro League non paga gli atleti per essere pro ma sono gli atleti che pagano per essere pro e Lee appunto si è lamentato di questa cosa perché non è giusto che un atleta debba pagare la sua federazione e non gli venga rimborsato nessun costo che non gli vengano ridati i soldi indietro a meno che ecco non ottenga un buon piazzamento ad un pro show e Lee ha anche detto che non è giusto penalizzare un atleta, sospenderlo solamente per essersi tolto la maglietta e per aver fatto divertire un po' di persone ad un guest posing ha detto che non è giusto perché gli atleti non essendo pagati dalla federazione devono trovare un modo per fare soldi devono trovare qualcosa o c'è chi ha proprio lavoro, c'è chi vive solo con gli sponsor e fa che sposing e quindi un atleta deve trovare ogni modo possibile per fare soldi poi Lee ha anche aggiunto che nei contratti con la Pro League c'è una clausola che invita gli atleti a non parlare mai della Pro League e a non portare una brutta immagine alla Pro League e se queste clausole dovessero essere violate l'atleta verrà bannato come appunto è successo a questo ragazzo e è anche successo a Lee solo che questo ragazzo non ha parlato male della Pro League non ha portato una cattiva luce agli occhi della Pro League si è semplicemente tolto la maglietta, ha posato e ha fatto divertire un po' di persone non c'è nulla di male e infatti Lee si è lamentato di questa cosa ce l'ha sia con la federazione ma anche con gli atleti ce l'ha anche con gli atleti perché se queste cose continuano a succedere e nessuno si ribella, specialmente gli atleti ha detto che gli atleti sono solo delle fighette ecco con i muscoli grossi che non servono a nulla ha proprio detto testuali parole che da un lato è vero, non che sono fighette cioè ovvero che queste cose continuano ad accadere ma nessuno si lamenta, nessuno fa qualcosa quando un atleta viene bannato nessuno si preoccupa di aiutarlo a riottenere il tesserino da Pro anzi tutti pensano per se stessi e dicono wow c'è un posto in meno vado io ad occuparlo sono tutti egoisti che pensano solo a se stessi e ai propri interessi ha detto così lì non c'è una sorta di associazione una sorta di sindacato degli atleti dove ci si può lamentare delle cose che stanno accadendo poi c'è Bob Ciccherillo che dice di essere il rappresentante degli atleti da vent'anni ma fino a qualche mese fa nessuno la sapeva nessuno lo sapeva questa cosa e infatti Bob non sta facendo niente alla fine infatti è un burattino della Pro League alla fine lui non conta nulla dice di essere il rappresentante ma alla fine non conta nulla e onestamente io sono d'accordo con Lee perché ultimamente la Pro League sta facendo poco da quel che ho visto per gli atleti e alla fine non sta facendo nulla per semplificare l'entrata in America agli atleti che fanno fatica ad ottenere un visto hanno abbannato questo ragazzo ingiustamente e in più la gestione dello scorso Olimpia secondo molti è stata veramente imbarazzante infatti c'erano 500 atleti 400-500 atleti all'Olimpia con uno spazio di letteralmente 10 metri quadrati e in tutti praticamente ci sono lamentati degli spazi strettissimi e mi ricordo che quando ho intervistato Gabriele Andriuli mi ha detto che non c'era neanche il bagno per disabili e che doveva urinare qua e là perché non c'era il bagno mi ha detto questo quindi allo scorso Olimpia non si sono proprio preoccupati del rispetto degli atleti specialmente per quelli wheelchair e quindi sono d'accordo con Lee Lee l'ho sempre apprezzato per essere super onesto lui è uno che dice sempre quello che pensa non ha mai filtri sulla lingua dice sempre quello che pensa e non si fa comandare dei poteri forti ha anche litigato molte volte con Wade Emilia anche la press conference di un Olimpia per quanto riguarda il salario degli atleti ed è stato anche bannato dalla Pro League quindi Lee è uno che apprezzo molto perché dice sempre la verità e non si fa mettere i piedi in testa comunque fatemi sapere la vostra fatemi sapere cosa ne pensate di queste parole di Lee Priest se siete d'accordo oppure no e cosa ne pensate anche di questo di questo ban a quest'atleta se secondo voi è giusto o no fatemelo sapere vi chiedo il like e un commento come al solito e ci vediamo in un nuovo video grazie a tutti